Sesta giornata del girone di ritorno, Cucine Lube e Civitanova, Verovola e Monza si ritrovano avversarie. Sokrov va a subire il muro di Khafur. Cacorto, Kovar, palla e mano per Bruno, Diamantini gioca sulle mani di Beretta, Murato e Rito, Diamantini. Ancora Sokrov va a toccarsi il viso, Motto riceve male, non l'attacca Diamantini, l'alza per Sokrov che non chiude, da dietro c'è Stankovic in difesa su Orduna, Kovar primo attacco tenuto da Orduna, Rizzo e poi Khafur, Murato da Rito. Giri Kovar. Diamantini ha realizzato un E sul lavoro, una più precedenza, il netto ora Orduna, Rizzo. Non chiude botto e allora si va da Sokolov, a segno. 23 lube, 21 per Volevola e Monza corta su Kovar di Khafur, si va da Sokolov la difesa di Balazzo, palla alta per Kovar che cerca la piazzata in parallela contro Botto. Set ball. Porta su Zavoronov, Orduna non la può attaccare la lube in primo tempo ma ci va Sokolov. A chiudere il set. Uno corta, Ghafur la riceve dalla tribuna, era sicuramente fuori questa palla, Botto le gioca su Sokolov. Ghafur non la può attaccare, Kovar la difende lunga, palla che va nel campo di Monza, Orduna per Botto. Questa volta Botto sfrutta tutta la capacità del Mani e fuori. Stankovic sul Zavoronov, Rizzo va ancora da Botto, questa volta Sokolov tiene Kovar, la ributta verso Sokolov, murato da Beretta. Il muro di Tomas Beretta sul senso Sokolov. Ancora dritta per dritta sul Kovar, arriva Stankovic. La difende Ghafur, poi l'attacca in qualche maniera, diagonale chiuso, seconda linea, c'è Leal e sfonda la lube con Leal. Ballonetto da Zavoronov. Sbagliata recezione, questa volta non chiude Leal, Bukhager, il muro del capitano, la copertura di Bukhager, Botto che non attacca la pipe. E allora Bruno vuole Stankovic per la chiusura, si chiude, anche il secondo set, lube avanti, 2-7-0. Zavoronov, la palla è a filo, Arason, 1-1 murato da Stankovic, di testa si salva il centrale italiano, Leal Pipe in campo. Del palleggiatore brasiliano alla sua prima stagione alla lube. Su Botto, corta, Orduna, vuole l'attacco da posto 4 di Botto e ancora Sokolov. Muro di Sokolov su Botto. Fattuta su Botto, Caligaro vuole l'attacco da posto 4 di Botto, parallela. Bukhager tiene a muro Leal e allora Bruno vuole Leal murato da Thomas Beretta, io ando Leal. Zavoronov, Caligaro vuole Bukhager in diagonale, vincente l'Austriaco. Fase finale del match, Kovar, Bruninho vuole l'attacco da posto 4 di Giri, Kovar si chiude. Il match, punto partita firmato da Giri, Kovar, Lube che batte Monza per 3-0. Pag. 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 Pag.